P.M. contro Porto Gruaro Decima giornata, snook up, 2-0 per il Porto Gruaro Siamo più o meno a metà del secondo tempo Palla che si chiama Fabio Montanari, 2-0 per il Porto Gruaro Doppietta di talento, anche a Monito La Pia, controlla bene, sulla sinistra Tira, calcia bene a porta Bozzilla controlla in due tempi Fa rilanciare, Simone Cargiullo, ottima sponda per Alfredo Esposito Alfredo sbaglia tutto con un lancio verso nessuno Fabio Montanari riparte dal fondo Gennaro Palmieri, il capitano del Porto Gruaro Luca La Pia, controlla con il tacco Verso anche lui, un compagno che non c'è Non l'ha seguito, non l'ha capito O è stato lui troppo frettoloso a fare la giocata Alfredo Esposito sponda verso Ruben sulla corrente destra Ruben guida, ritornato dopo varie assenze Ivan, Mauriello, controlla bene Montanari, la propria porta Che Luca Baldini, su cui Luca Baldini si era ventato Dopo l'errore di Mauriello Ancora Montanari al limite dell'area, nell'angolo sinistro Ottimo intervento di Simone Cargiullo, finora uno dei migliori dei suoi Alfredo Esposito ancora, una sponda verso Baldini Che non riesce a ricevere problemi per Montanari Al parastinco sinistro Avendo i guanti non può intervenire da solo L'aiuto Esposito Pozzilla verso Simone Cargiullo Sulla corrente sinistra Subisce fallo da Ivan Mauriello L'arbitro prontamente interviene Rischiando l'intervento di Mauriello Su Gargiullo Alfredo Esposito Alfredo Esposito Ci prova da lontano A impensierire la retroguardia Dei PM Sotto di due reti Vediamo la palla, arriva in area, svetta Talento Sotto porta, la ribatti e ribatti Rete di Simone Gargiullo 2 a 1 per il PM Sul tiro di Ruben Guida Simone Gargiullo riesce bene a fare il tapin vincente Nonostante l'intervento di Montanari Che chiude l'angolo Ma il tiro di Gargiullo Riesce a superare anche il portiere Ed inzaccarsi alle spalle Dell'incolpevole Quindi Montanari 2 a 1 il punteggio Partita riaperta Luca Lapia Di nuovo nel cerchio centro campo Probabilmente non subisce fallo Da parte di Ruben Guida Alfredo Esposito Tocca verso Simone Gargiullo Palla troppo lunga Su cui non può arrivare Gargiullo Si riparte da Palmieri Verso Fabio Montanari Che può controllare con i piedi Ancora Palmieri Stop di destro Controlla con il suo sinistro Verso Luca Lapia Che sbaglia lo stop E regala una rimessa A Ruben Guida Dei PM Grande intervento di Esposito Ancora Talento Si destreggia Passa in mezzo a 2 Ancora nel cerchio centro campo Si porta la palla prima sul destro Poi doppio passo Ancora sul destro Prova il tiro Ciude troppo l'angolo Di visuale E quindi Si partirà dal fondo di Vozilla Ciudiamo qui Il collegamento Dopo quest'azione dei PM Ecco qui Si conclude E ciudiamo qui